Allora, terza tappa del tour di Vasco Rossi, Vasco Non Stop Live 2022, terza tappa che oggi è iniziata da un po', nonostante il maltempo, che è imperversa anche in Romagna, come qui nel Abruzzo, sta facendo questa terza tappa ad Imola. Ricordiamo che Vasco Rossi, quindi la sua terza tappa, la seconda tappa è stata fatta a Milano, un bellissimo concerto che ho seguito anche un po' su Facebook, adesso sto seguendo sempre su Facebook tramite qualche video di qualche mio amico, il concerto stesso di Vasco Rossi, questa terza tappa ad Imola, e niente, si dice una canzone, un buon sound, un buon ambiente, possiamo dire un buon ambiente, quindi comunque un Vasco Rossi che ci sta anche oggi, che sta sicuramente gonfiando la platea con le sue consuete canzoni famose, insomma quelle che lo hanno reso ormai un idolo di tutti, di diverse generazioni, ecco, oltre ovviamente le canzoni nuove che presenta anche, in una scaletta composta di 26-27 canzoni se non erro, e niente, un bell'ambiente, peccato, ecco, peccato per questo, per questo meteo, un po' così, un po' incerto, le persone sono state dando tempo sotto la pioggia, adesso sembra che non piova, speriamo che mantenga il tempo per poter comunque, come dire, per il pubblico, per almeno vedere il proprio idolo, non sotto fulmini, tempeste, pioggia, ma almeno con un tempo decente, no? Comunque, un Vasco Rossi che nonostante l'età continua a stupire, perché comunque fare questi tour ravvicinati ogni quattro giorni, questi concerti, scusate, ogni quattro giorni, in questo suo tour, non è semplice, non è, non è realmente semplice, quindi, che dire, complimenti, complimenti a Vasco Rossi, e buon concerto a tutti.